Grazie Presidente, a questo punto mi unisco anch'io alla richiesta di informativa urgente al Ministro Bernini, perché vede Presidente qui dietro la lotta sacrosanta alle discriminazioni secondo me stiamo, e lo dico con la massima umiltà, oltrepassando i limiti. Qui non si tratta di libertà della ricerca o di autonomia dell'insegnamento, perché lo dico per suo tramite alla collega Ghirra, che dopo mi omangerà e io gradirò il suo contributo magari alla fine del mio intervento, grazie collega. Quello che volevo sottolineare è che si possono avere opinioni certamente contrastanti, si possono avere visioni, ma di fronte non ad un convegno, ad un seminario, cari colleghi, ma ad un esame universitario che è denominato teoria queer e di genere, sostenuta dal Professor Federico Zappino, al quale riconosco un merito e gliene do atto. Il Professor Federico Zappino non dice che l'ideologia gender non esiste, rivendica l'esistenza, la certifica, la dichiara, glielo riconosco, solo che la eleva a insegnamento universitario. E nella pagina, nel sito istituzionale dell'Università di Sassari, oltre a spiegare che questo esame dà diritto a sei crediti formativi, come è giusto che sia per un esame complementare, si suggeriscono dei testi. Oltre ovviamente ai testi dello stesso professore, magari sarà un po' inopportuno, ma è perfettamente legittimo, lo fanno quasi tutti i docenti universitari, che al loro esame suggeriscono il proprio libro di testo, si consiglia, per arrivare preparati opportunamente a questo esame universitario, lo studio di un libro del 1977, a firma di Mario Mieli. Alla pagina 62 di questo libro, che gli studenti dell'Università di Sassari devono studiare, si scrive testualmente, scusate, ho problemi di vista, noi checche rivoluzionarie sappiamo vedere nel bambino... Scusa, sta facendo esattamente un intervento in cui motiva perché chiede l'informativo urgente. Che problema è? Esatto, no, no, però lo dovete ascoltare. Prego. Perché motivo la mia presa di distanza, che, perdonatemi, potrà essere legittima, o dobbiamo per forza allinearci tutti al vostro modo di pensare. È giusto che gli italiani sappiano che all'Università di Sassari un docente che è un assegnista di ricerca ha un insegnamento in cui si chiede di studiare un libro che alla pagina 62 recita testualmente. Noi sì, possiamo amare i bambini, possiamo desiderarli eroticamente rispondendo alla loro voglia di eros, possiamo cogliere a viso e a braccio aperto la sensualità inebriante che profondano, possiamo fare l'amore con loro. Per questo la pederastia è tanto duramente condannata. Essa rivolge messaggi amorosi al bambino che la società, invece, tramite la famiglia, traumatizza, educastra, nega, calando sul suo erotismo la griglia edipica. La società repressiva eterosessuale costringe il bambino al periodo di latenza. Beh, Presidente, mi perdoni il turpiloquio, ma a me queste nefandezze fanno schifo e non sono degne di essere elevate al rango di materia da studiare all'Università. Per cui chiedo a nome del gruppo Lega che il Ministro Bernini venga in aula a riferirmi se condivide tutto questo oppure no. Grazie. Grazie.